Il primo classificato è il vincente Eriko. Premiazione d'Olimpiadi. Il secondo classificato è Cionci. Secondo me è abbarato. È un vecchio tiratore. O abbarato o appagato. Ragazzi qui c'è un outsider. Uno che non lo ha aspettato. No, mi sta scherzando. Qui ha fatto proprio l'exploit. Ha dato un gap incredibile. Non so come ha fatto. Pannini di San Paolo! Quello si sta! E niente, questa qui un po' la classifica. Poi dopo, la medaglia di legno. Mi dispiace a toccare te. Ma comunque siete tutti molto vicini. A una medaglia di legno? Se guarda, la medaglia di legno è quarta. Sì, ma è stato quarta. Quart'ultimo, sì, ma quarta. Non lo posso dire, ma si chiama stifetto. Non lo posso dire, ma è stato quarta. Non lo posso dire, non lo posso dire. Ma scusa Bruno, di me c'è il medaglia di legno è quarta. Come? Di me c'è il medaglia di legno è quarta. Non lo posso dire. Non lo posso dire. Non lo posso dire. Bruno, scherzo, no. No, no. Usatemi. 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 No, no. No. Allora, il problema è un altro. Perché qui c'è, ci sono tre donne che sono qui. Allora è qui la classifica che non è in parte che parla. Noi siamo classificati a passo. No, no, no. Perché c'era una seconda, c'era una terza. E noi che sentiamoci. Che cos'è? Diciamo noi, si è fatto Conti con l'amico. I conti l'ho fatto io. E prima di classificato, a pari merito, tutte e tre le donne che è compresa anche la nostra. Oh, ma non ve scomodate però. Non alzatemi da qui. Oh, ma. E' inutile che allunghi il collo, per te non c'è niente. Ragazzi, ora per coronare tutta questa cosa, questo va detto che grazie al nostro amico Claudio, che si andava a fare e riusciva a trovare un bel premio. E questo premio, si è detto, per non dare, diciamo... Per non dare al bambino, diciamo... Perché sennò il bambino lo daria tutto. Allora ho detto, mettiamola al sorteggio. E la sorte sarà quello che sarà. Grazie. Pertanto, ecco i presenti, anche chi è arrivato a tavolo. E allora qui abbiamo questa ragazza che... Lei è la vendata. Lei è la vendata. L'abbiamo messo tutti noi. L'innocenza. Bruno, facciamo la vendata. Tu gli occupi, eh? Guarda la fuffa. Vai, tira fuori. Don Martini, leggi te. Vai. Vai. Viva, ho fatto una cosa sempre. No, piano piano. No, piano piano. 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 Bruno! Vai! Bruno! Bruno! Ahhhh! Bruno e la Bruna! Rami! Ahhhh! Ahhhh! La scatola è tua! L'associazione è la San Presidente! Ok! Che buono! Grazie! Grazie al mio capo! Mazzalo vedere! Mazzalo vedere! La forza del pensiero! Lo voglio, lo voglio! No! Quella ce l'ho io! Ce l'hai per tornare a casa? Ti potrei portare io però! Ohhhh! Eh? Aspetta se no lo rendo! Ma si fa male! Ma si fa male! Qui va sganciato e tirato fuori! Ok? Esatto! Sono emozionato! Bravo! Bravo! Grazie! Grazie! Grazie!